A seguire Izoar Pinscher Incidente di percorto Grazie in via di riconoscimento se ci sono e a seguire gli Junioress Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! A secondo posto abbiamo il gruppo degli Izoar Pinscher vincono i bolognesi Allora per il Best Juniores Il giudice Hans Holmgren Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!